Perugia si prepara a festeggiare il Capodanno con la trasmissione Rai condotta da Amadeus, l'anno che verrà. Il palco è stato montato in piazza a 4 novembre, i lavori sono ancora in corso. È enorme, più grande di quello di Umbra Jets. La sua presenza sta attirando l'attenzione di tante persone, soprattutto turisti, che si fermano a guardare la maestosa opera che ospiterà gli artisti e le persone dello spettacolo la notte del Capodanno. Nei giorni scorsi è stato approvato il piano di protezione civile, con l'obiettivo di organizzare il controllo della viabilità, l'accesso e il deflusso del pubblico attraverso il controllo e la sorveglianza dei volontari perugini di protezione civile e le altre organizzazioni regionali di volontariato. Le attività del piano di protezione civile sono essenzialmente di tre tipi, controllo dei flussi pedonali in ingresso e uscita nelle aree interessate dall'evento musicale in piazza 4 novembre e agevolazione dei flussi nelle aree circostanti, supporto alle forze di polizia locale, al servizio e della manifestazione, in una serie di punti strategici e azioni di monitoraggio nelle aree interessate dalla manifestazione e trasmissione delle informazioni alla centrale operativa comunale COC. Per l'attuazione del piano saranno coinvolte, secondo diversi duali, le strutture comunali e le strutture esterne di supporto.